Fate il tampone prima di celebrare la Santa Messa. L'appello a sacerdoti e diaconi che non vogliono o non possono vaccinarsi arriva attraverso una lettra da Monsignor Domenico Battaglia. L'Arcivescovo di Napoli invita sacerdoti, diaconi ed operatori pastorali della diocesi a vaccinarsi adottando comportamenti responsabili e generosi e richiama la nota della conferenza episcopale italiana del primo ottobre che definisce la vaccinazione anti-covid un atto di amore verso il prossimo. Tuttavia, scrive a Battaglia in una lettera, alcune persone, tra cui qualche ministro ordinato e qualche operatore pastorale, mi hanno manifestato la loro impossibilità fisica o morale a sottoporsi alla vaccinazione. Tenuto conto di tutto ciò, prosegue l'Arcivescovo di Napoli, chiedo a tutti coloro che intendono svolgere i loro servizi a favore del popolo di Dio di sottoporsi al tampone rinofaringeo, secondo le disposizioni delle autorità sanitarie.